E' di 35 morti il bilancio accertato delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. Sono 16 feriti, alcuni in codice rosso. Per tutta la notte si è continuato da scavare tra le macerie in cerca di eventuali dispersi. Proclamati due giorni di lutto cittadino. Iniziano gli accertamenti per stabilire le cause del clamoroso collasso della struttura. Per Genova una ferita profonda dalle pesantissime conseguenze anche economiche, non solo per la città. Una disgrazia spaventosa e assurda usa parole molto dure il Presidente della Repubblica Mattarella nella dichiarazione sul disastro di Genova. Il capo dello Stato chiede un esame serio e severo sulle cause di quanto è accaduto. Il Premier Conte in visita a Genova annuncia un piano incisivo di monitoraggio delle infrastrutture. Una notte di grande paura in Molise, in altre zone del centro-sud, poco prima di mezzanotte, e una scossa di terremoto di intensità 4.7 ha colpito la provincia di Campobasso. Il sisma è stato avvertito anche in Campania e in Puglia. Molte le persone che si sono riversate in strada e hanno passato la notte in auto non ci sono feriti. Dalle prime verifiche i danni risultano per fortuna contenuti. Scotland Yard indaga per terrorismo sull'episodio di ieri a Londra quando un uomo si è lanciato con la sua auto sui passanti nei pressi di Westminster. L'autore dell'attacco subito arrestato è un 29enne britannico proveniente da Birmingham. L'intervento rapidissimo della polizia ha evitato conseguenze gravi. L'episodio si è risolto con solo alcuni lievi feriti. Buongiorno dunque e benvenuti alla prima edizione della Tgla 7 che dedicheremo in gran parte alla tragedia di Genova con il crollo, il collasso di un pilone che sosteneva il viadotto, il ponte Morandi. 35 morti, 16 feriti, molti in codice rosso. Un bilancio che ci auguriamo non debba essere ulteriormente aggiornato. Ma di questo e di come si presenta questa mattina Genova dopo il giorno dopo questa tragedia immane che ha sconvolto la città e il paese intero, ci colleghiamo con Paolo Colombo. Buongiorno Paolo. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Un ferragosto triste, tristissimo per Genova. Come hai detto tu, il numero dei morti è salito pochi istanti fa. La prefettura ha comunicato che sono 35. Tra questi ci sono tre bimbi di 8, 12 e 13 anni. I dispersi, è un numero ancora imprecisato, variano tra i 4 e i 10. Sono 16 i feriti, 11 i palazzi evacuati con 440 persone che hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa qui a Genova, qui nel quartiere di Genova Certosa da cui vi stiamo parlando. Il ponte ovviamente lo vedete alle mie spalle. La procura sta indagando per disastro colposo e omicidio colproso plurimo a carico di gnoti. Vi ricordo che il ponte è gestito dalla società Autostrade e questo ponte, costruito nel 1967, inaugurato il 4 settembre di quell'anno, da parecchi anni era in manutenzione, erano stati messi dei tiranti al ponte nella parte che è rimasta in piedi ancora, dove ci sono le due campate del ponte. Per quanto riguarda il collegamento cerchiamo di ripristinarlo, ci sono tante storie, storie di dramma, di dolore, di familiari persi in questa sciagura e ci sono anche storie che hanno del miracoloso. Una di queste è stata raccolta da Maria Covolta. Mi ricordo la strada che scendeva giù. Stavo transitando, ho sentito il rumore sordo e ho visto la strada che andava giù e io andavo giù con lei per questa parte di gioco. Poi ho avuto la fortuna che sono finito, non so neanche io dove, perché dopo ho rivisto la mia macchina. Sei svenuto? Non sono svenuto, sono rimasto lucido, ho chiamato subito i vigili del fuoco per avvisare della situazione, per farmi venire a prendere. Poi ho chiamato la mia famiglia subito. Ti senti miracolato? Mi sento miracolato, sì, perché sembrava di stare in un film. Cosa hai visto quando c'è entrato fuori? Ma niente, ho visto lì i soccorsi che sono arrivati, i vigili del fuoco, tutti, è stato scioccante, è stato scioccante perché ho le immagini davanti a me della strada che va giù. C'erano altre macchine davanti a te? Sì, ho visto altre macchine, anche perché comunque è una delle strade abbastanza trafficate e impensabili che possa succedere una cosa del genere in Italia, mi dispiace. Dove stavi andando? Stavo andando a Genova a fare delle commissioni e posso raccontarlo finalmente. Per fortuna io... Ti sento miracolato? Assolutamente sì, assolutamente. Lì è Santa Barbara che mi ha protetto e tutti i vicini, è così. Grazie. Allora, ritorniamo a Genova a Paolo Colombo. Paolo, adesso naturalmente è il momento del dolore, dei tanti interrogativi, ma poi c'è anche l'aspetto pratico perché Genova con questa situazione rischia veramente la paralisi dal punto di vista della viabilità. Sì, Roberto, proprio così. Dicevamo prima nel collegamento quando è stato interrotto che il ponte è in concessione alla società Autostrade. Da quattro anni c'era un lavoro di ristrutturazione che erano già iniziati negli anni 90 con dei tiranti che erano stati messi nella parte che vedete a sinistra del teleschermo, nella parte delle due campate che sono rimaste ancora in piedi. Grossi problemi perché il ponte collega Genova con tutta la riviera di Ponente, quindi in direzione 20 miglia. La città adesso è divisa in due. Il quartiere dove siamo adesso, quello di Genova-Certosa, è praticamente isolato. Per raggiungere Genova bisogna ritornare indietro a nord, prendere l'autostrada a Genova-Bolzanetto e uscire a San Pierdarena. Oppure fare tutta una deviazione sulla collina, da questa parte, ma allungando il percorso di 15 chilometri. C'è da dire che nella disgrazia ieri è andata bene, se così possiamo dire, perché se fosse stata una giornata di lavoro, di traffico, su quel ponte alla mattina ci sono code lunghissime e il bilancio sarebbe stato molto più grave. Grazie per il momento. Ci risentiamo in chiusura di telegiornale per gli aggiornamenti. e andiamo avanti con i nostri servizi. Una tragedia spaventosa e assurda. Nessuna autorità potrà sottrarsi a un esercizio di piena responsabilità. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sulla sciagura di Genova. Il primo pensiero, continua il Presidente della Repubblica, è alle vittime e alle angosce dei loro familiari. Questo è il momento dell'impegno comune per affrontare l'emergenza, per assistere i feriti, per sostenere chi è colpito dal dolore, chi deve seguire un esame serio e severo sulle cause di quanto è accaduto. Così il capo dello Stato, ma anche la Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri è volato immediatamente a Genova per incontrare in un summit, un lungo summit, che si è tenuto in prefettura le autorità locali per manifestare naturalmente la vicinanza del governo ai familiari delle vittime e ai feriti. Inizieremo da subito ad avviare un piano in via straordinaria per assicurare un costante monitoraggio dello Stato e delle nostre infrastrutture. Alcune sono molto datate, anche questo ponte è un ponte che era stato concepito negli anni Sessanta e inaugurato nel Sessanta Sette. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è volato ieri pomeriggio a Genova e ha fatto subito un sopralluogo sul luogo del disastro. Questa, aggiunge il Premier, è una tragedia che ci interroga tutti. Tutte le autorità competenti, tutte le persone che hanno responsabilità dovranno riflettere sul punto. Posso assicurare, puntualizza, che il governo è assolutamente vicino alla città di Genova. Conte si è trattenuto per oltre 30 minuti sull'area del crollo accompagnato anche dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Totti e dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Genova che lo ha informato sulle dinamiche del cedimento del lungo cavalcavia. Il Presidente del Consiglio, conversando con i giornalisti, spiega di essere rimasto particolarmente colpito da quanto accaduto. I dati confermano che è una tragedia veramente che ha inferto una grave ferita non solo alla città di Genova, alla Regione Liguria, ma all'intera Italia. Non si è trattato di un'esplosione. Si lavora, infatti, spiega ancora Conte, sull'ipotesi di un cedimento strutturale, ma sono mere ipotesi. È chiaro che infrastrutture così datate, come molte altre in Italia, sono soggette anche al logorio, all'usura del tempo. Però è evidente che quando passano alcuni decenni occorre che la manutenzione sia ancora più stringente, le verifiche siano ancora più puntuali, ancora più rigorose. Dobbiamo evitare che una tragedia del genere si possa verificare. Tutti i cittadini devono viaggiare sicuri e ci impegneremo perché questo non accada più. Queste dunque le parole di Giuseppe Conte, del Premier Giuseppe Conte. Ne abbiamo accennato in un qualche modo nel corso del collegamento con Paolo Colombo. Andiamo a vedere quali saranno adesso le conseguenze immediate di quanto accaduto ieri a Genova. Il ponte sulla 10 che non c'è più, una ferita profonda che divide in due Genova, ma non solo. Spezza la Liguria tutta, allontanando Levante e Ponente. Chiude parte dei collegamenti del Paese con la Francia e la Spagna. La città e la Regione adesso rischiano l'isolamento. Il ponte Morandi costituiva di fatto l'unico collegamento che connetteva l'Italia peninsulare a est, la Francia meridionale e la Spagna a ovest. Ed era il principale asse stradale fra Genova, le aree residenziali periferiche, il porto di Voltri, l'aeroporto e le aree industriali di Ponente. Le conseguenze di questo crollo, purtroppo, saranno pesantissime, anche dal punto di vista economico, in particolare per commercio e turismo. Il viadotto serviva innanzitutto a collegare Genova a ovest con gli aeroporti. Era poi fondamentale per chi veniva da ovest per raggiungere il porto centrale della città, da dove partono soprattutto traghetti e navi da crociera. Sotto passava anche la ferrovia diretta al porto. Si parla di 25 milioni e mezzo di transiti l'anno, con un quadruplicamento del traffico negli ultimi 30 anni. Oltre a genovesi e turisti, dunque, il traffico era costituito fondamentalmente da tir e mezzi pesanti. Si stava lavorando e una connessione alternativa per aggirarlo. Il progetto della famosa e anche contestata gronda autostradale ormai approvata dal Cipe che nei prossimi mesi dovrebbe andare a bando dovrebbe servire adesso più che mai per scaricare i mezzi pesanti da quest'arteria e il traffico extraurbano. Anche Autostrade per l'Italia, gestore del tratto di autostrada sul quale sorgeva il ponte, aveva indetto ad aprile scorso un bando di gara per rinforzare il ponte. L'importo in appalto era di oltre 20 milioni di euro e dovevano servire proprio a rafforzare gli strali della Pila 9, quella crollata ieri. A poche ore dalla tragedia la prima immediata conseguenza è arrivata da Piazza Affari dove il titolo di Atlantia, la holding della famiglia Benetton che possiede Autostrade per l'Italia, gestore di quel tratto di A10, ha chiuso con un calo del 5,39% e una perdita di capitalizzazione di oltre un miliardo di euro. Perdite che, almeno per oggi, saranno scongiurate grazie alla pausa di Ferragosto. Allora, lasciamo per un attimo il disastro di Genoa. Torneremo a collegarci con Paolo Colombo in chiusura di telegiornale per gli eventuali aggiornamenti. Parliamo di un'altra situazione che si è verificata nella notte perché c'è stata una forte scossa di terremoto poco prima della mezzanotte, esattamente alle 23.48 in Molise, epicentro in provincia di Campobasso, in località Acquaviva con le Croce, a 35 chilometri dal capoluogo molisano. Il sisma registrato ad una profondità di 19 chilometri ha toccato il grado 4.7 della scala Richter ed è stato avvertito in una vasta area del sud Italia, dalla costa adriatica alla campagna. Non si segnalano danni o vittime. Molte persone si sono riversate nelle strade e c'è chi ha deciso di trascorrere la notte in automobile per timore di nuove scosse. quattro mesi fa si era registrata nella stessa zona una scossa di magnitudo 4.2. Sono ora in corso i controlli della protezione civile per individuare eventuali lesioni agli edifici. Ai vigili del fuoco sono arrivate molte chiamate, naturalmente chiamate determinate dal panico, ma nessuna richiesta di intervento. Spostiamoci adesso a Londra perché nella capitale inglese sono state rafforzate tutte le misure di sicurezza dopo l'episodio che ha visto ieri un 29enne di Birmingham investire tre persone per poi finire con la propria auto contro le barriere di protezione del palazzo del Parlamento a Westminster. Un lupo solitario a Londra, un altro tentativo di colpire Westminster con la tecnica fai da te dell'automobile lanciata contro i passanti e i ciclisti. L'azione terroristica stavolta non ha prodotto vittime solo tre feriti e nessuno di essi in pericolo di vita, ma il bilancio dell'attacco avrebbe potuto essere ben più grave. L'uomo che ha cercato di uccidere a bordo di una utilitaria finita poi sulle barriere di protezione del Parlamento britannico è un 29enne di Birmingham, una delle città più islamizzate del Regno Unito. Gli agenti di Scotland Yard lo hanno tirato fuori dalla Ford Fiesta color argento con cui aveva invoccato a tutta velocità il vialetto che porta uno degli ingressi dell'edificio che ospita i due rami del Parlamento prima di andare a sbattere ha falciato alcuni ciclisti e un gruppetto di persone che si trovavano sulla sua traiettoria. L'uomo non era armato con pistole o coltelli come invece era accaduto a marzo del 2017 sempre davanti in quel caso il 42enne Khalid Massoud scese armato dopo aver lanciato la macchina sulla folla e provocò altre vittime per un bilancio complessivo di sei morti prima di essere ucciso dagli agenti di polizia. La stessa cosa era accaduta qualche mese dopo il 3 giugno 2017 quando tre uomini con un furgone falciarono i pedoni sull'Hondon Bridge e poi a piedi inseguirono e accoltellarono altri passanti in quel caso le vittime furono ben 11. A Birmingham l'antiterrorismo a cui sono state subito affidate le indagini ha perquisito alcuni appartamenti dove aveva vissuto l'uomo arrestato oggi che dopo il fermo si è chiuso in un assoluto silenzio ma in attesa di capire meglio la matrice dell'azione le autorità britanniche hanno confermato lo stato di allerta grave in tutto il paese il secondo nella scala di pericolo. E sta per concludersi positivamente l'odissea di Aquarius la nave di SOS Mediterranei Medici Senza Frontiere che ha avuto l'autorizzazione per attraccare a Malta 141 migranti a bordo saranno suddivisi in base alle rispettive quote e saranno accolti in 5 paesi dell'UE. Malta apre i suoi porti ai 141 naufraghi e risolve la nuova crisi dell'Aquarius l'accordo siglato ieri che il premio spagnolo Sanchez chiama pionieristico consente all'isola di far attraccare la nave senza accogliere alcun migrante che verranno ridistribuiti tra una serie di stati la Spagna stessa che ne prenderà 60 la Francia con altri 60 la Germania e il Lussemburg e il Portogallo in realtà non c'è nulla di nuovo una decisione simile era stata raggiunta già a giugno per la Lifeline ma Bruxelles tira un gran sospiro di sollievo accogliamo con favore la decisione di Malta di autorizzare lo sbarco dell'Aquarius scrive in un tweet il commissario all'immigrazione Avramopoulos elogi i paesi che hanno aperto le porte ai migranti per la loro solidarietà abbiamo bisogno di soluzioni sostenibili questa è la responsabilità dell'Unione nel suo insieme è tuttavia una soluzione omnicomprensiva sostenibile è proprio quello che manca e via via che i carichi delle ONG si ripetono e i porti italiani restano chiusi con Salvini che sottolinea come questa politica stia facendo svegliare il vecchio continente sono sempre meno i paesi che si espongono proprio il grande mediatore di ieri Pedro Sanchez lo ha provato sulla sua pelle dopo aver accolto i 630 del primo afferro Aquarius è immediatamente finito sotto i riflettori prendendosi anche un richiamo ufficiale da parte dell'amministrazione socialista dell'Andalusia sulla quale pesano gli sbarchi che arrivano dal Nord Africa e dall'inclub di Ceuta e Melilla a lasciare ben sperare però come dice il premier spagnolo il fatto che l'accordo di ieri possa indicare la via per risolvere il problema di fondo di tutta la questione migratoria la revisione di Dublino l'uso dei ricollocamenti preventivi per superare l'abbandono nel quale sono stati lasciati i paesi di prima accoglienza torniamo prima dei saluti a collegarci con Paolo Colombo a Genova per capire per chiederti Paolo soprattutto se proseguono le ricerche da parte dei vigili del fuoco si Roberto partiamo da questa immagine che è la più emblematica del disastro di ieri della tragedia è come se il tempo si fosse fermato sul ponte Morandi i camion sono rimasti lì così come tante macchine quella era la parte del ponte in direzione 20 miglia e regna ancora nel quartiere un silenzio assurdo che è durato ovviamente tutta la notte c'era paura negli abitanti della zona di sentire il boato perché la parte del ponte è ancora pericolante per questo ci sono ancora 440 sfollati proseguono le ricerche sì è vero ci sarebbero ancora un paio di macchine sotto le macerie da recuperare ma mai come in questo obbligo dobbiamo usare il condizionale abbiamo provato a sentire i soccorritori poco fa c'è gente che sta lavorando da tantissime ore da più di 12 ore ininterrottamente quelli che sono arrivati dal nord Italia ieri hanno stati impiegati più di 300 vigili del fuoco tanti soccorritori del soccorso alpino-fubriale perché vi ricordo che parte del ponte è caduta nel greto del torrente Polcevera e c'è da dire che va bene che le condizioni meteo siano queste perché se fosse piovuto sarebbe stata una tragedia ancora più grande perché quel torrente è stato a causa di tante luvioni l'ultima delle quali nel 2014 se non hai altre domande direi che per adesso da Genova è tutto ti ringrazio Paolo naturalmente avremo la possibilità poi di risentirci nel corso delle prossime edizioni della TG per il momento è tutto io vi ricordo che il TG La 7 torna con l'edizione delle 13 e 30 e vi auguro una buona giornata che è un'altra domanda che è un'altra domanda che è un'altra domanda Grazie a tutti.